Endless love anticipazioni. Preparatevi perché una rivelazione scioccante sta per cambiare tutto ciò che pensavate di sapere. Siete pronti a scoprire la verità nascosta dietro il tragico destino di Ozan? La storia di Zeynep inizia nelle ombre della prigionia sotto il controllo di un emir senza cuore. Una pedina senza potere, Zeynep si trasforma presto in una maestra di e vendetta, decisa a distruggere il suo ex amante, Ozan. Ma attenzione, il fuoco della vendetta può bruciare anche chi lo accende. In questo intricato gioco, Ozan, un uomo dal cuore spezzato, si ritrova intrappolato in una partita pericolosa, architettata dal suo stesso cognato. Ozan ha amato Zeynep con tutto se stesso, ignaro delle macchinazioni che lo circondavano. Coinvolto in un omicidio abilmente orchestrato dal cognato Emir, Ozan diventa una marionetta nelle mani di Zeynep. Ma la vendetta di Zeynep non si ferma qui. Decisa a distruggerlo emotivamente, lo sposa con l'intento di annientarlo, tradendo e consumandolo fino a desiderare la sua morte. Ma la fine di Ozan è veramente tragica e avvolta nel mistero. Due versioni contrastanti della sua morte sollevano dubbi e svelano una rete di inganni. Una voce suggerisce che Ozan, distrutto dal tradimento di Zeynep con Emir, abbia scelto di togliersi la vita. Un'altra ipotesi invece punta il dito contro Zeynep, sospettata di aver orchestrato il delitto per farlo sembrare un suicidio. Ma qual è la verità? Ozan, nato sotto una cattiva stella e segnato da una vita di sofferenza e ingiustizia, è stato un burattino nelle mani di Emir, usato per ricattare sua sorella Nyan. Nonostante il suo amore sincero per Zeynep, si ritrova tradito da lei e da Emir, eventi che segnano il suo destino in modo drammatico. Dopo aver sposato Ozan per vendetta, Zeynep si trova divisa tra il suo giuramento di distruzione e un amore irresistibile per Emir, che la porta a ripensamenti inaspettati. Emir, sicuro di sé e delle proprie mosse, non teme le minacce di Zeynep e continua a perseguire i suoi obiettivi. In una notte fatale, Zeynep cede alle avance di Emir e scopre di essere incinta. Tuttavia, una tragica perdita segna la sua vita. Poco dopo, Zeynep rimane incinta una seconda volta, certa che il padre sia Emir, ma decide di far credere a tutti che il bambino sia di Ozan. L'accusa di omicidio e il tradimento di Zeynep con Emir devastano Ozan, che si ritrova in prigione, intrappolato da circostanze avverse e da un complotto mortale. Un attacco improvviso lo porta in ospedale, trasformandolo in un facile bersaglio. Ma chi è veramente determinato a volerlo fuori dai giochi? La morte di Ozan, inizialmente presentata come un suicidio, non convince sua sorella Nyan. Superato lo shock emotivo, Nyan inizia a dubitare della versione ufficiale e, insieme a Kemal, scopre indizi che suggeriscono una verità diversa. Le foto della scena del presunto suicidio mostrano incongruenze che un ex agente di polizia conferma come segni di omicidio. Nel cuore pulsante della storia, Zeynep si ritrova divisa tra amore e vendetta, mentre Ozan è imprigionato dalle circostanze e dal tradimento. Gli eventi si susseguono con colpi di scena e segreti che avvolgono questa trama vincente. Zeynep, sopraffatta dal senso di colpa, si convince di essere responsabile della morte di Ozan. Ma una sorprendente rivelazione svela che non è così. Dopo aver somministrato il veleno a Ozan, Zeynep si reca in ospedale per vederlo. Eludendo la sorveglianza, raggiunge la stanza di Ozan, dove con le ultime forze lui la accusa, facendola sentire colpevole e responsabile della sua morte. Mi hai tradito con mio cognato, sei la donna peggiore del mondo, sono le parole di Ozan che tormentano Zeynep. La confusione tra realtà e convinzione di Zeynep aggiunge complessità alla trama. La trama si infittisce quando un misterioso personaggio, Gurkan, entra in scena. Dopo che Ozan si risveglia in ospedale, Gurkan, indossando un camice da medico, gli somministra una sostanza mortale. Poco dopo, Gurkan riceve una telefonata da Aso, la mente dietro l'omicidio, e conferma l'esecuzione del delitto. Ma perché Zeynep era così convinta di essere stata lei l'assassina di Ozan? Le parole di Ozan affilate come lame feriscono Zeynep profondamente. La rabbia di Ozan, alimentata dalla paura di uno scandalo, spinge Zeynep oltre il limite. In un momento di disperazione, Zeynep afferra un cuscino e lo preme sul volto di Ozan, ignara che il veleno aveva già avviato il suo tragico lavoro. Nel frattempo, la verità sulla morte di Ozan inizia a emergere. Tarik, il fratello di Zeynep, aiuta a inscenare il suicidio di Ozan, coprendo la vera causa della sua morte. Questo intreccio di segreti e bugie condanna tutti i protagonisti a vivere con il peso di una colpa incommensurabile. Chi credete sia il vero colpevole dietro la tragica fine di Ozan? Lasciate i vostri commenti qui sotto e continuate a seguirci.